Cresce la protesta tra i lavoratori della Solagrital dopo la nomina del liquidatore si attende la firma sulla delibera con cui la giunta stanzia 5 milioni intanto dipendenti e indotto manifestano a Boiano e nel capoluogo tavolo in prefettura Taglio delle province, la politica in fermento, la conferenza degli amministratori locali contraria all'ipotesi di fusione, le autonomie locali devono essere salvaguardate dicono annunciando battaglia Palazzo San Giorgio, seduta problematica, molte assenze nel centro-destra in Consiglio Comunale a Campobasso per evitare di andare sotto, salta il numero legale, affiore il nervosismo tra i banchi della maggioranza Autovelox a Cantalupo, il comune ci riprova, smontata la colonnina sulla statale l'amministrazione torna alla carica il giovedì e il sabato la macchinetta su una panda bianca multe da non pagare, dicono le associazioni Coppa Italia oggi il sorrento alle 15 il fischio d'inizio a Selva Piana turn over per entrambe le squadre in Serie D oggi doppia seduta di allenamento per le Molisane Buon pomeriggio dallo studio del telegiornale edizione delle 14 in copertina alla Solagrital Sono ore frenetiche, si cerca di fare il più presto possibile non solo alla Giunta ma anche in Prefettura dove oggi pomeriggio è previsto tra l'altro l'ultimo degli incontri in agenda durante il quale sarà presentata, illustrata la delibera con la quale il Governo regionale dovrebbe sostenere, anzi sosterrà possiamo anche eliminare il condizionale a questo punto l'azienda con 5 milioni di euro ma andiamo con ordine ripercorriamo le tappe istituzionali e poi passiamo alla protesta dei lavoratori che comunque restano sul chi vive nei servizi di Giovanni Minicozzi e Giuseppe Lanese Qualche spiraglio di luce penetra nel buio fitto che avvolge ancora la Solagrital nelle ultime ore infatti sono accaduti due avvenimenti importanti che potrebbero segnare la svolta per l'azienda vicola boianese il primo, l'Assemblea dei Socii di Solagrital in attesa delle decisioni ministeriali che tardano ad arrivare e su proposta degli stessi amministratori ha deciso di azzerare gli organismi societari e ha nominato il liquidatore Angelo Gian Lorenzo al quale è stato affidato l'esplicito compito di traghettare l'azienda nella gamma con la procedura del fitto del ramo di azienda l'altro fatto importante riguarda il prestito di 5-6 milioni di euro che verrà concesso attraverso la Fimolise proprio alla gamma per liquidare le spettanze arretrate maturate da lavoratori, allevatori e trasportatori l'operazione non è semplice considerata la presenza di altri creditori di Solagrital che potrebbero rivendicare il blocco dei fondi destinati alle maestranze la Giunta regionale comunque con l'ausilio di esperti del settore è convinta di poter erogare le spettanze ai lavoratori entro pochissimi giorni il Presidente Iorio lo ha comunicato direttamente a loro ieri sera al termine della lunga riunione della Giunta ma evidentemente non è riuscito a convincerli stamattina infatti con l'inizio del primo turno di lavoro l'Assemblea ha deciso di far saltare il tavolo e ha anticipato lo sciopero d'oltranza e le proteste inizialmente previste per dopodomani 5 ottobre la situazione dunque ora rischia di precipitare nel caos 5 mesi di stipendi arretrati sono troppi per chiunque intere famiglie a Boiano molte delle quali in monoreddito sono rimaste ormai senza risorse e alla disperazione per una situazione economica insostenibile si aggiunge anche l'angoscia per le incognite sul futuro i lavoratori della Solagrital ora fanno sul serio la protesta è diventata continua questa mattina è saltata l'Assemblea sindacale in fabbrica e i dipendenti dell'azienda Vicola sono andati a manifestare davanti al comune di Boiano bloccando la via principale di accesso alla piazza fischi e urla rivolti al sindaco che si sono poi placati solo quando lo stesso primo cittadino ha avvisato via telefono i rappresentanti dei lavoratori della convocazione in prefettura di un tavolo urgente la protesta poi si è spostata proprio a Campobasso nelle loro parole c'è rabbia e sconforto ma anche la voglia di combattere fino alla fine per salvare il posto di lavoro e noi ci aspettiamo che almeno si deliberi qualcosa di positivo per la classe operaia perché ormai è da tempo le famiglie sono al disastro completo con i figli con gli affitti con i pagamenti con i muti siamo proprio giù per terra vogliamo non solo le 5 mensilità ci stanno ancora altre cose noi abbiamo un recupero dell'IRPEF e quello lo vogliamo sono soldi nostri che dobbiamo indascare li dobbiamo indascare dal mese di luglio dove sono i nostri soldi? non è questo il momento di risanarla adesso ci devono pagare abbiamo bisogno dei nostri stipendi abbiamo figli a casa abbolezza da pagare e tutto quello che una famiglia deve far fronte a cui deve far fronte ogni mese quindi cacciassero i soldi e poi vedessero chi se li ha rubati e poi di conseguenza si vedrà cosa fare perché così non possiamo più lavorare la protesta continuerà ad oltranza fino a quando non si avranno risposte certe sul pagamento degli stipendi e sul futuro dell'azienda hanno spiegato i dipendenti della Solagrital che hanno annunciato di essere pronti a tutto pur di difendere il posto di lavoro tanto si diceva poco fa dell'appuntamento in prefettura alle 18.30 per illustrare la delibera della giunta regionale protestano anche gli operai avventizi dello zuccherificio che hanno accusato l'azienda di essere stati lasciati a casa dopo 30 anni di lavoro alcuni quest'anno non sono nemmeno riusciti a raggiungere le settimane necessarie per ottenere la disoccupazione creando così grossi problemi economici a molte famiglie sostengono la notte non dormiamo più dicono non sappiamo cosa raccontare ai nostri figli i lavoratori ora chiedono attenzione da parte delle istituzioni e un sostegno al reddito e a proposito del reddito rifondazione comunista SEL i partiti della sinistra le associazioni chiedono un reddito minimo una legge che garantisca gli operai sentiamo Tonino Danese un'idea che ha preso piede già da tempo e che vede la mobilitazione di movimenti associazioni e partiti in tutta Italia anche in Molise il comitato per la proposta di legge sul reddito minimo garantito a Campobasso ne ha illustrato e definito i criteri fondamentali è una proposta di legge in iniziativa popolare lanciata da una serie di forze politiche associata da Rifondazione Comunista a Sinistra Ecologia e Libertà all'Italia dei Valori al BIN che è un po' quello che ha costruito strutturalmente tutta la proposta di legge la proposta di legge è chiara è quella di istituire un istituto come il reddito minimo garantito un istituto che è esistente in tutti i paesi europei ed istituito anche in Italia chi sarebbero i beneficiari della legge? ammonterebbe a 700 euro al mese e possono soffrire di questi istituti tutti coloro che hanno un reddito annuo inferiore ai 7200 euro all'anno voi avete delle iniziative e state raccogliendo delle firme? certo questa iniziativa del reddito minimo è un'iniziativa di proposta che si inserisce dentro una campagna più larga è quella la campagna dei diritti per il lavoro e per i lavoratori che è quella anche della campagna referentaria per l'abrogazione dell'articolo 8 per il riprisso dell'articolo 18 e per l'abrogazione della riforma delle pensioni per il lavoro e per i diritti raccoglierete le firme quando? le firme si inizieranno a raccogliere da dopo il 12 di ottobre e durerà per tre mesi tutta la raccolta delle firme il reddito minimo garantito per noi di Selle è una sorta di pietra angolare sulla quale poter ricostruire uno Stato sociale uno Stato di diritto che 20 anni di berlusconismo e di riforme che per noi non sono riforme ma mancate riforme dello Stato sociale hanno distrutto con il reddito minimo si dà la possibilità ai giovani di avere un minimo di sostentamento di non essere oggetto del ricatto del lavoro nero dello schiavismo e al tempo stesso si creano delle opportunità lavorative per poter diventare autonomi e essere produttivi per la nostra società la finalità e l'importanza Convocata a Roma domani per le 10.30 la conferenza delle regioni e delle province autonome in agenda il provvedimento del governo sul funzionamento degli enti locali un argomento delicato anche alla luce delle polemiche sugli sprechi e sui tagli ai costi della politica e a proposito di tagli la conferenza delle autonomie locali pronta a dare battaglia contro l'accorpamento delle province sentiamo Enzo Di Gaetano si è tenuta a campo basso la riunione della conferenza regionale delle autonomie locali al centro del dibattito l'ipotesi di riordino delle due province in attuazione di quanto disposto dalla legge sulla spending review dopo l'introduzione dell'assessore Chieffo Luigi Mazzuto in qualità di presidente della provincia di Sernia colpita dai rigori del provvedimento governativo ha in via preliminare sollevato rilievi di incostituzionalità con riferimento alla procedura di riordino delle province laddove rimette ai Cal e alle regioni il compito di formulare proposte piuttosto che lasciare l'iniziativa ai comuni così come invece previsto dall'articolo 133 della Costituzione il provvedimento governativo sembra non tenere in alcuna considerazione la specificità dei singoli territori e finisce in definitiva per applicare una disciplina uguale a situazioni diseguali ignorando che in alcune regioni come appunto in Molise la soppressione di una provincia determina la coincidenza dell'intero territorio regionale con quello dell'unica provincia superstite sotto questo profilo pertanto il provvedimento Monti si dimostra irragionevole a tal proposito ha detto Mazzuto stiamo correndo il rischio di vedere cancellata anche la regione giacché la permanenza della stessa come livello istituzionale potrebbe essere messa in discussione vedendo ridotto il proprio territorio ad un'unica provincia sulla base di queste considerazioni Mazzuto ha così formulato alla conferenza l'ipotesi di riordino consistente nella conferma delle due province quella di Campobasso e di Isernia inderoga i parametri dettati dai recenti provvedimenti legislativi in materia domenica a Campobasso farà tappa il tour di Matteo Renzi in giro per l'Italia per le primarie del Partito Democratico il suo messaggio è quello di cui abbiamo bisogno ha detto Micaela Fanelli annunciando la manifestazione cioè di un rinnovamento di persone metodi e scelte l'appuntamento nella sala della Costituzione della provincia del sindaco di Firenze c'è bisogno di pulizia etica buona politica innovazione capacità di visione di programmare ha detto la Fanelli con una prospettiva lunga che solo energie giovani possono dare cade ancora una volta il numero legale in consiglio comunale a Campobasso una seduta problematica soprattutto per il centrodestra Salvatore Colagiovanni ha le prese con numerose assenze troppe tra i banchi della maggioranza e così il numero legale è saltato tra le proteste dell'opposizione sentiamo ancora Tonino Danese manca il numero legale il consiglio comunale viene aggiornato gli applausi ironici della minoranza presente e l'aula di Palazzo San Giorgio si svuota dopo la pausa erano solo in 13 fin qui quasi la normalità ormai visto che il numero legale cade con regolarità ma nella prima mattinata si è verificato un fatto che nemmeno la maggioranza forse si aspettava come ha spiegato Salvatore Colagiovanni che si è trovato a fare ostruzionismo lui capogruppo del PDL ai più numerosi consiglieri di opposizione essendo solo io su 29 di maggioranza vuol dire che un segnale forte che abbiamo voluto dare all'opposizione che molte volte diventa stelle strumentali sugli argomenti importanti che noi trattiamo mentre sulle emozioni e interrogazioni che sono strumenti importanti per una volta abbiamo fatto noi gli strumentali per far capire che il gioco dell'essere strumentale nel chiedere il numero legale nel chiedere le emozioni di loro nel voler diventare consigli fiume è un gioco che non vale oggi la minoranza dopo tre anni ha preso atto che anche noi sappiamo fare opposizione alle loro argomenti quando vengono in consiglio Ma perché allora Colagiovanni si è trovato solo contro tutti se così si può dire? Non è un paradosso perché il presidente del consiglio purtroppo doveva partire e ha spostato la partenza un po' più tardi e quindi stamattina si è trovato a mantenere lui il numero legale alla minoranza perché loro ne sono 13 ne prendiamo atto oggi che loro ne sono 13 con alcuni componenti di maggioranza ne erano a 13 e in più c'è il presidente Sabusco del 14 il numero legale in seconda convocazione è di 14 e quindi involontariamente Sabusco si è trovato a mantenere l'opposizione e quindi si è dovuto scendere tra virgolette in campo direi che questo centrodestra soffre del sindrome dell'essere soli ieri il sindaco ha dichiarato di essere solo solo contro tutti e oggi Colagiovanni ha dichiarato di essere solo solo contro tutti sa di fatto che oggi la maggioranza non c'era la minoranza ha garantito il numero legale abbiamo iniziato a dibattere e a discutere senza la presenza del sindaco e senza la presenza della maggioranza esclusione fatta per un componente della maggioranza che è assurdo degli assurdi ha dovuto fare ostruzionismo nei confronti della minoranza insomma è una pagina indecente di questo consiglio comunale speriamo che cambi speriamo che venerdì il sindaco sappia ritrovare un po' il bandolo della matassa perché è un consiglio che non discute che non dibatte prima della pause che cadesse il numero legale è passato con 11 voti a favore 4 astenuti l'ordine del giorno di Pietro Maio che invita Comune e Regione a impegnarsi per smantellare l'amianto presente a Campobasso oggi più di ieri abbiamo la conferma che quando decidiamo qualcosa in maggioranza in consiglio riusciamo ad applicare al di là di tutte le mille polemiche che potranno fare le minoranze che fanno il loro lavoro oggi la minoranza non ha i numeri nemmeno per la seconda convocazione La cronaca giudiziaria prosciolti dal GUP di Campobasso i quattro indagati del caso Usher oltre al chirurgo erano coinvolti nella vicenda accusati di abuso d'ufficio il governatore Iorio il figlio Luca l'ex direttore generale dell'Asrem Sergio Florio non luogo a procedere perché il fatto non sussiste una formula che lascia poco spazio al dubbio pronunciata dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Campobasso Maria Rosaria Rinaldi che ha di fatto prosciolto Michele Iorio dall'accusa di abuso d'ufficio il caso è quello legato all'assunzione di Cristiano Usher chirurgo di chiara fama arrivato al veneziale di Sernia per dirigere l'unità operativa di chirurgia generale un incarico secondo la procura di Campobasso assegnato senza un concorso per nomina diretta e dunque commettendo un abuso Usher avrebbe così ottenuto un ingiusto vantaggio patrimoniale incassando il compenso pattuito quasi 94.000 euro lordi all'anno l'inchiesta condotta dal procuratore d'alterio e a fasi alterne dai sostituti Papa e Dipetti tendeva peraltro a dimostrare che l'arrivo di Usher avrebbe aperto le porte del veneziale e in particolare quelle delle sale operatorie a Luca Iorio medico e figlio del governatore secondo i magistrati Luca Iorio avrebbe partecipato agli interventi chirurgici di Usher ancora prima che venisse formalizzato un rapporto di lavoro con l'ospedale tra le persone indagate anche l'allora direttore generale dell'ASREM Sergio Florio nella ricostruzione della vicenda Adelmo Manna difensore del chirurgo ha sostenuto che nelle procedure non c'è stata alcuna violazione di legge che dunque nessun reato è stato commesso soddisfatte le difese per il proscioglimento di tutti e quattro gli indagati nessun commento dalla procura aspettiamo di leggere la sentenza hanno detto al primo piano di Vialelena I giudici del Tar del Lazio invece hanno di fatto stoppato le ricerche la utilizzazione per effettuare le ricerche in mare di petrolio le associazioni non hanno comunque rinviato la manifestazione in programma per dopo domani anzi per il 6 ottobre a Manfredonia sentiamo Manuela Iorio Stoppa le trivellazioni a largo delle isole Tremiti a caccia del petrolio ma non perché il ministero dopo le proteste delle istituzioni è tornato sui propri passi a frenare per il momento qualsiasi ipotesi di ricerca dell'oro nero è stata una sentenza del Tar del Lazio che ha definito irregolare per alcuni vizi di procedura l'autorizzazione con cui il di Castero aveva dato l'ok alla società londese Petrol Celtic il tribunale amministrativo si è espresso dopo che 5 comuni del Gargano Manfredonia Vieste Rodi Vico del Gargano e Peschici avevano presentato ricorso a farlo sapere il sindaco di Termoli Antonio Di Brino che nelle scorse settimane aveva dato vita a un tavolo tecnico interregionale tra Puglia Molise e Abruzzo presieduto dal presidente del Parco Nazionale del Gargano per scongiurare l'ipotesi trivellazioni soddisfatto dunque della sentenza il sindaco il governo deve agire solo e unicamente per il bene della collettività affermato Di Brino e non nell'interesse di pochi intanto resta confermata la grande manifestazione organizzata dalla rete NotRIV per sabato 6 ottobre a Manfredonia che replicherà quella del 7 maggio 2011 a Termoli quando per protestare contro le perforazioni nel mare Adriatico arrivò anche Lucio Dalla questa volta a Manfredonia ci saranno Francesco Baccini Paola Tucci Vladimir Luxuria intanto grazie all'assessorato all'ambiente della regione il comune ha messo a disposizione della popolazione gratuitamente due pullman che partiranno sabato alle 13 da piazza Donatori di Sangue per partecipare alla grande manifestazione della città pugliese e la terza commissione consigliare della regione ha approvato all'unanimità la proposta di legge che vieta le ricerche degli idrocarburi nel mare Adriatico un atto in linea con i provvedimenti già adottati in altre regioni ha affermato il presidente Nico Romagnolo dopo mesi di polemiche e di battaglie sembrava un capitolo ormai chiuso anche perché la colonnina dell'autovelox sulla statale era stata abbattuta ma l'amministrazione comunale di Cantalupo sembra riprovarci c'è una panda bianca con dentro la macchinetta sentiamo Sergio Di Vincenzo da un paio di settimane l'incubo degli automobilisti è tornato il comune di Cantalupo ha deciso di riprovarci e ancora una volta ha piazzato il suo autovelox mobile sulla statale 17 all'altezza del bivio di Macchia Godena proprio dove era stato installato il dispositivo fisso ora disattivato le cui multe sono state già annullate dal giudice di pace dalla prefettura di Sernia viene sistemato all'interno della panda in dotazione all'amministrazione comunale e di solito è attivo sei ore il giovedì pomeriggio e sei ore il sabato mattina oltre alle multe le conferme arrivano dalla delibera che affida il servizio al vigile urbano di San Massimo ma le contravvenzioni si chiedono i cittadini sono regolari oppure c'è la possibilità di farsi annullare anche queste per Antonio Turdò presidente del comitato Protrignina neanche l'autovelox mobile sarebbe in regola poiché tra l'altro non avrebbe né l'autorizzazione dell'ANAS né quella della prefettura per questo Turdò invita tutti gli automobilisti multati a non pagare e a rivolgersi al comitato per fare ricorso al tempo stesso il presidente del comitato Protrignina invita il sindaco di Cantalupo Claudio Biondi a smetterla di vessare la povera gente del resto il precedente dell'autovelox fisso spento nel 2011 con un decreto prefettizio dovrebbe pur insegnare qualcosa e il parere di Turdò l'amministrazione comunale tuttavia di ben altro avviso tant'è che a dicembre davanti al Tarmolise si discuterà il ricorso avverso al provvedimento firmato dall'allora prefetto facente funzioni Caterina Valente anche in questo caso comunque Turdò appare fiducioso a suo avviso questa sarà l'occasione buona per far venire a galla tutta la verità e cioè che le leggi vanno rispettate è stato presentato in comune a Campobasso il chapter del Molise Sannio di Filitalia International un'associazione di Filadelfia presidente di Molise Marilina Niro che ha spiegato le finalità dell'associazione si chiama Sannio ha detto perché l'idea e la consapevolezza dell'identità territoriale siano sempre aperte al mondo per ricordare quella stirpe sannita che abita il mondo con tanti molisani che vivono e lavorano fuori dai confetti ai confini regionali professionisti imprenditori giovani costituiscono il primo nucleo di questa organizzazione che intende promuovere il territorio sannita appunto e si chiama la Via Nova la nuova associazione che si è costituita presentata al Teatro del Loto di Ferrazzano al progetto hanno aderito politici esponenti del mondo della cultura e dell'informazione e semplici cittadini Via Nova ha un progetto ambizioso come dicono i promotori dell'associazione vuole cominciare a parlare quel linguaggio dimenticato che si declina attraverso i principi etici la salvaguardia dei beni comuni il rispetto del territorio e di chi ci vive la nuova associazione è stata presentata ai cittadini lo scorso fine settimana al Teatro del Loto a Ferrazzano al progetto hanno aderito esponenti politici rappresentanti del mondo della cultura e dell'informazione e semplici cittadini il programma di Via Nova abbraccia a 360 gradi il territorio e punta alla promozione dello sviluppo della competitività della cultura e della partecipazione l'associazione dunque come luogo di confronto interno ed esterno ma soprattutto come strumento operativo per incidere sulla società e portare quel cambiamento di cui il Molise ha davvero bisogno durante la serata è andato in scena anche l'auto da fe del camminante lavoro teatrale intenso e coinvolgente che ripercorre la celebre autodifesa davanti ai giudici americani del poeta e sindacalista molisano Arturo Giovannitti impersonato dal bravo attore Diego Florio campagna di prevenzione per i problemi dell'udito si chiama Nonno Ascolta mi si svolgerà in piazza a Termoli con la collaborazione del Santimoteo sentiamo Fabrizio Chione in una società rumorosa come quella di oggi sembra difficile non sentire pure i disturbi dell'udito dopo i 65 anni interessano una persona su tre dati confermati anche dai risultati delle giornate dedicate ai controlli in Abruzzo e Molise l'anno scorso in più del 60% dei nonni visitati si è riscontrato un problema che ha a che fare con la sordità ma soprattutto la metà delle persone controllate non era consapevole di non sentire bene per queste ragioni domenica 7 ottobre in piazza Monumento a Termoli è in programma una nuova giornata dedicata alla prevenzione l'iniziativa Nonno Ascoltami è stata presentata all'ospedale Santimoteo nel periodo della festa loro dedicata perché è stato ribadito volere bene ai nonni significa soprattutto pensare alla loro salute immaginiamo che il nonno viene accompagnato dal nipotino nel senso che il bambino deve che vuole avere contatto sonoro con il nonno lo accompagna a fare questo esame adiometrico questa visita eventualmente a risolvere il suo problema perché poi in realtà l'udito è la via sensoriale più importante in assoluto perché si è visto che non si spegne mai noi chiudiamo gli occhi non vediamo più ma l'udito è sempre in azione anche quando dormiamo Alla presentazione sono intervenuti il direttore sanitario Filippo Vitale la vice Morelli dirigenti del reparto che segue la campagna e rappresentanti di una società specializzata domenica dalle 10 alle 18 visita autoiatrica e controllo dell'udito gratuiti con un reparto che per un giorno si sposterà in piazza chiamiamo stanare queste persone convincerle che questo deficit può essere risolto che può essere trattato e questo migliorerà moltissimo proprio la qualità della vita nell'ambito familiare innanzitutto ma anche nell'ambito sociale perché una persona anziana che continua ad avere una vita sociale una vita culturale è una persona che si mantiene viva e mantiene il proprio cervello giovane Restiamo in tema però i nonni alla scuola primaria di San Lazzaro a Isernia sono stati festeggiati dai nipotini potremmo dire così sentiamo la nostra redazione Festa dei nonni l'idea più originale a Isernia è stata quella della scuola dell'infanzia di San Lazzaro della San Pietro Celestino che ha organizzato una visita dei bambini alla casa di riposo Casa Mia per gli anziani per due settimane i bambini hanno lavorato a scuola insieme ai loro nonni hanno costruito hanno ideato hanno pitturato hanno realizzato anche delle scatole contenenti giochi bambole di pezze e tantissime altre cose aquiloni in più abbiamo impastato con le nonne dei dolci dei biscotti che oggi abbiamo portato in omaggio ai nonni di Casa Mia per anziani ci sembrava opportuno far visita a questi vecchietti perché dobbiamo sensibilizzare i bambini verso la figura dell'anziano che è una figura importantissima per lo sviluppo e per la crescita dei nostri bambini sia affettivo che sociale i bambini sono stati entusiasti di queste attività e soprattutto di questa uscita didattica che gli ha sicuramente lasciato un segno i nonni ci hanno accolto in maniera gioiosa hanno anche versato qualche lacrima si sono emozionati devo dire la verità anche noi perché è la prima esperienza però spero che resti qualcosa nel cuore dei nostri bambini Oktoberfest un nome che evoca atmosfere tedesche soprattutto legate alla festa della protagonista appunto di questo periodo lei la birra anche in Molise Giuseppe Carriera quella in corso in Germania è l'ultima settimana dell'Octoberfest l'evento di richiamo internazionale che coniuga gusto e bere responsabile su scala regionale ormai giunto alla quarta edizione l'Octoberfest del Molise ha richiamato un folto pubblico già nel primo weekend dopo aver toccato diverse piazze negli anni scorsi questa volta l'evento si svolge nei locali di antichi sapori di Colombina a Frosolone protagonista la birra e come accade per i vini è utile conoscerla più a fondo è una delle sette sorelle che fanno parte dell'Octoberfest che è autorizzata a produrre birra per l'Octoberfest e l'Augustiner che è sicuramente una delle poche birre nel mondo apprezzata per le sue qualità anche nel prossimo weekend il triplice abbinamento cibo, musica e birra verrà riproposto sul fronte del menù alla tradizione bavarese si affianca anche qualche elemento più vicino a noi ma sempre con una originale rilettura lo stingo di maiale con i crauti e le patate i viustel misti bavaresi abbiamo inserito anche il viustel di Norimberga molto buono con patate alla bavarese fatte con lo speck e i crauti poi abbiamo una zuppa di fagioli alla bavarese chiaramente abbiamo anche le costolette di maiale che è un piatto tipico della tradizione tedesca sempre con le patate dei crauti e più i brazel il pane tipico tedesco nonché i dolci in particolarità quest'anno il birra misù un dolce e un tiramisù con il gusto di birra Agustiner bene ci fermiamo su queste immagini vi ricordo le previsioni del tempo e la pagina sportiva noi ci vediamo invece intorno alle 15 per gli aggiornamenti grazie e a più tardi grazie Grazie a tutti.